Musica Bussi sul Tirino, quasi 2300 abitanti, un territorio di circa 26 km quadrati. Una storia fatta soprattutto di un insediamento industriale importante, un polo chimico, di riferimento non solamente per l'Abruzzo ma per l'Inter Italia. Qui si incontrano due vallate, la vallata del Pescara e la vallata del Tirino, il fiume più limpido d'Italia. Due sono i candidati a sindaco, Carmine Di Carlo per la lista Rianimiamo Bussi e Salvatore Lagatta per la lista Lavoriamo sempre per Bussi e il sindaco uscente. Andiamo a conoscerli. Carmine Di Carlo è il candidato sindaco per la lista Rianimiamo Bussi, con un gioco di parole, no? Certo. Come mai questo nome? Che sembra un po' forte, no? Rianimiamo Bussi nasce da un gioco che abbiamo pensato nel momento in cui parlavamo con i ragazzi della lista, che era quella di creare una crasi tra la mia professione, io sono un anestesista rianimatore che ama il suo territorio e quindi da questo è nato Rianimiamo con il suffisso finale amo relativo all'amore per il nostro territorio. Una paura che vi porta a questa necessità di rianimarlo? Allora, rianimare il paese è un parolone, cioè il paese comunque ha una sua vita che però sicuramente va assolutamente sviluppata. Bussi è un paese che ha tante potenzialità, tante tante potenzialità che però purtroppo sono poco poco sfruttate, sono poco valorizzate e la volontà ovviamente della nostra lista e del nostro gruppo è quello di creare tutto ciò che si può a Bussi e per usare una frase detta da una nostra candidata sull'apertura, creare questo diamante grezzo che è Bussi. Bussi è un paese che ha delle potenzialità sia dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista artistico che non sono assolutamente sfruttate. Anche le attività per i giovani devono essere assolutamente implementate per recuperare quello che è lo spopolamento dei piccoli centri che purtroppo è una piaga abbastanza diffusa nei paesi dell'entroterra soprattutto e noi dobbiamo fare del tutto per recuperare questo. Per recuperare questo purtroppo dobbiamo utilizzare, scusatemi la parola magari non bellissima, ma le volontà e le necessità dei giovani, la loro capacità di cercare delle soluzioni e sentire proprio le loro necessità. Questo è stato anche il motivo per cui la nostra lista è stata volutamente composta da quasi tutti i giovani che però non sono degli sprovveduti, sono dei giovani che hanno già tanta esperienza, abbiamo imprenditori che si sono inventati il loro lavoro facendo di necessità virtù e creando delle situazioni lavorative che sono sicuramente un fiore all'occhiello per il paese. Questo è quello che vogliamo per Bussi. Motivati e voglia di restare. Assolutamente, assolutamente, questo è una cosa che anche per me vale. Io lavoro fuori da sempre eppure non ho mai abbandonato questo paese e tutti questi ragazzi che sono nella nostra lista sono dei ragazzi che hanno pensato più volte di andare via, ma l'amore per il paese è stato assolutamente superiore alla necessità di andare via. Siamo nel centro del paese, bello della diretta, siamo nel centro del paese. Siamo veramente verso l'accesso al borgo del paese, al borgo antico che è sicuramente uno dei nostri obiettivi perché recuperare in maniera intelligente il borgo antico e farlo tornare a rivivere sia dal punto di vista ovviamente turistico, ma soprattutto dal punto di vista residenziale perché perdere la parte residenziale sul borgo turistico secondo noi è un errore, quindi noi dovremmo sicuramente puntare anche su questo. Il borgo antico di Bussi ha dei gioiellini che sono assolutamente nascosti e non valorizzati, quindi la nostra idea sarà sicuramente quella di puntare tanto anche sulla valorizzazione del borgo antico, portarlo a far riaprire tutte le vecchie botteghe che c'erano, le botteghe artigianali e soprattutto a cercare di centralizzare lì tutte quelle che sono le attività artistiche del paese, perché Bussi storicamente è stato un paese di artisti, di musicisti e il borgo antico dovrà avere questo, dovrà avere assolutamente anche queste figure all'interno. Carmine Di Carlo qualcosa ci hai già detto, che fa nella vita? Io sono un anestesista rianimatore, sono il titolare di un centro medico che si occupa di terapia del dolore e medicina estetica, attualmente a Spoltore presso all'Arca, insomma all'Arca delle professioni. Qualcosa ci hai anche detto anche sulle tue motivazioni, perché vuoi fare il sindaco di questa città? Le motivazioni sono assolutamente queste, noi dobbiamo cercare di fare tutto ciò che in dieci anni della vecchia amministrazione non è stato fatto. Quindi vi ponete in discontinuità rispetto a quello? Ma io credo che tra due persone ci sono sempre dei pensieri diversi, delle idee diverse e di conseguenza tutto ciò, proprio per una crescita del paese, io credo che sia importante creare una discontinuità su alcuni tipi di cose ovviamente, su altri purtroppo ci deve essere per forza una continuità tipo la bonifica, la bonifica, la reindustrializzazione, quelle sono degli obblighi che io penso nessun sindaco di questo paese potrà prescindere da questi argomenti. Ma per quanto riguarda tutto il resto, secondo me dopo dieci anni è giusto portare sul territorio, portare ai nostri compaesani delle innovazioni, perché dopo dieci anni io credo che quando uno ha messo già tutte le sue idee, ora dobbiamo mettere le nostre. A proposito, qualcosa hai già cominciato ad anticipare, del vostro programma quali sono gli aspetti? Allora sicuramente dal punto di vista lavorativo ovviamente abbiamo tante idee, abbiamo tante idee da sviluppare per implementare l'installazione di nuove attività imprenditoriali all'interno del territorio, non soltanto industriali, perché purtroppo Bussi per esempio ha un'area artigianale che non è stata mai sviluppata, non è stato mai proposto a nessun artigiano di venire ad attivare delle attività artigianali sull'area artigianale di Bussi, che attualmente non ha nessuna attività operativa. Sicuramente la nostra idea è quella di valorizzare tutte le attività che sono all'interno del territorio, quelle associative, noi abbiamo delle associazioni che fanno delle attività artistiche che sono veramente un fiorell'occhiello per il territorio e tutte queste cose devono assolutamente essere integrate in un percorso turistico. Per quanto riguarda il percorso turistico anche qui Bussi ha il suo 90% delle attività turistiche che sono legate alle canoe, che è una cosa bellissima e sicuramente da implementare, ma Bussi ha tanto di più. Bussi ha tanto di più alle quali bisogna dare spazio e soprattutto valorizzarle. Soltanto se noi pensassimo alle bellezze archeologiche che abbiamo, che sono totalmente abbandonate, mai valorizzate. Voglio pensare alla Torre di Sutrium, al Tempio di San Rocco, alla vera Torre di Sutrium che sta sopra a Rocca Tagliata, che anche alcuni del Paese non conoscono. I tanti portali che sono abbandonati dal terremoto, che rischiano di crollare. Potrei fare tantissimi esempi. Nel nostro programma li abbiamo elencati. Tutte queste chicche devono essere rese fruibili dal turista, anche perché altrimenti Bussi continuerà con un turismo che è soltanto di passaggio. Noi abbiamo un Paese che ha una posizione strategica. Noi siamo a metà tra Pescara e l'Aquila. Siamo vicini a tutti i borghi più belli d'Abruzzo. Siamo a due passi dalla Rocca di Calacio, dalle stazioni sciistiche. Siamo sulla strada che va per Roma. Tutte queste potenzialità di questo Paese devono assolutamente essere messe all'interno di percorsi turistici per rendere il nostro turismo non più di passaggio, ma un turismo residenziale, che sarà sicuramente una grossa fetta anche dell'economia legata al turismo. Mi sembra di capire che avete voglia di rimboccarvi le mani che ha già in mente di come organizzerà il lavoro nella sua squadra, tra i consiglieri che eventualmente saranno eletti. Assolutamente sì, perché quando abbiamo deciso di fare questa squadra, diciamo che i componenti sono stati scelti. I componenti sono stati scelti in base alle loro caratteristiche, ai loro campi di applicazione nella vita, alle loro esperienze professionali, alle loro attitudini e di conseguenza tutto il nostro staff sta già lavorando, anche dal punto di vista programmatico, ognuno nel proprio settore per cercare già delle soluzioni e per cominciare quindi in caso di vittoria a lavorare da subito. Quale sarebbe, sarà il primo atto del sindaco di Carlo dal quale tutti quanti gli abitanti di Bussi noteranno subito la differenza? Questa è una bella domanda, sicuramente di atti da fare subito ce ne sono tanti. Primo fra tutti sicuramente cominciare a creare un tavolo tecnico vero per la bonifica e reindustrializzazione soprattutto delle aree 2A e 2B. Noi siamo già in contatto e stiamo già trovando delle soluzioni, qualora non fossero già attive, per accelerare la bonifica e dopodiché dobbiamo partire assolutamente con i lavori che sono fermi dal 2009 sul Borgo Antico. Queste sono assolutamente le prime cose da fare perché Bussi deve sviluppare il turismo, deve sviluppare il turismo perché c'è tanta tanta gente che viene giornalmente e che purtroppo nota questa mancanza del dopo canoa o il dopo bicicletta. Quindi sicuramente i primi atti saranno legati sulla creazione di questa parte di economia, una creazione di una piattaforma che noi abbiamo chiamato Info Impresa, che stiamo già testando per cercare di portare fuori dal territorio di Bussi tutte le possibilità che possono avere su Bussi eventuali investitori sul nostro territorio. Io voglio ricordare soltanto una cosa, Bussi oltre alla posizione strategica per eventuali imprenditori, proprio geografica, ha delle fortune che è uno svincolo autostradale proprio sull'area industriale praticamente, ha l'accesso ferroviario direttamente dentro l'area industriale, ha l'acqua e quindi per un qualunque investitore questi già sono dei motivi importantissimi per venire a lavorare a Bussi, a investire su Bussi. Come sarà Bussi nel 2028 tra 5 anni con lei sindaco? Io immagino Bussi sicuramente un paese più popolato, immagino un paese dove tutta la spinta turistica sarà capita da tutto il paese, sarà apprezzata da tutto il paese e sicuramente all'interno di un consorzio, non più Bussi come comune singolo, un comune da solo, ma un comune consorziato con altri comuni per implementare sia la riduzione della popolazione ma soprattutto per avere migliori servizi ai cittadini. In 30 secondi mi sa dire perché io da potenziale elettore di Bussi dovrei dare il voto? In 30 secondi è impossibile, già in 10 minuti è veramente difficile, però sicuramente la cosa che io cerco di dire a tutti è che dopo 10 anni va fatto un cambiamento, 10 anni sappiamo che cosa si è fatto su Bussi, per i prossimi 10 anni noi dobbiamo dare la possibilità a dei ragazzi giovani che hanno sicuramente altre intenzioni per il paese, che non sono vincolati alla vecchia mentalità del paese, che non è di Bussi ma è di qualunque paese del mondo e quindi dare a questi ragazzi la possibilità di dimostrare ciò che è l'amore per il loro paese. Grazie Carmine Di Carlo, lo ricordiamo candidato sindaco a Bussi per la lista Rianimiamo Bussi. In bocca al lupo. Grazie e vive il lupo. Salvatore Lagatta è il candidato sindaco per la lista Lavoriamo sempre per Bussi ed è anche il sindaco uscente e ci riceve nel suo ufficio di primo cittadino. Buongiorno. Salve sindaco, allora, sei ancora in corsa? Sì, ancora in corsa. Chi è Salvatore Lagatta, come si presenta all'elettorato di Bussi? Salvatore Lagatta, se mi fate mi dare questa definizione, è un operatore sociale, uno che ha passato la vita, ha fatto per oltre 40 anni sindacalista e sono 10 anni che faccio il sindaco. Diciamo che la mission principale della mia vita è quella di preoccuparmi delle problematiche prima dei lavoratori, adesso più in generale di tutti i cittadini. Di tutti i cittadini di Bussi. Perché vuole fare il sindaco, ha voluto fare il sindaco di questa città e soprattutto vuole continuare ad esserlo per i prossimi 5 anni? Ma io quando ho deciso la prima volta di candidarmi a fare il sindaco e perché Bussi viveva un periodo particolare, aveva due emergenze, che era la bonifica dei siti inquinati, conosciuta non soltanto in Italia ma anche in giro per l'Europa, è il problema della deindustrializzazione. Noi siamo un paese che per oltre 100 anni ha vissuto di industria, di industria chimica che è stato un po' il benessere ma anche la fonte delle preoccupazioni che oggi affliggono il territorio. Ci siamo trovati 10 anni fa in una situazione veramente drammatica, io ricordo che a 10 giorni dall'insediamento è arrivata una lettera della Solvè che allora era l'azienda che operava sul territorio e praticamente annunciava a me, al comune, alla regione, al Ministero dell'Ambiente, guardate noi a gennaio 2014 chiudiamo e andiamo via, a meno che le istituzioni non sono in grado di trovare delle alternative all'esistente. Siamo partiti da lì, abbiamo fatto immediatamente un avviso di manifestazione di interesse per capire se c'era un'azienda interessata a operare sul territorio e grazie a quell'avviso di manifestazione di interesse un'azienda è stata scelta ed è l'azienda che in questo momento opera nel vecchio sito industriale facendo anche investimenti importanti e questo ha permesso di ricreare un nucleo industriale che conta oggi intorno a 170-180 persone complessivamente, ci sono prospettive di nuovi investimenti, non avremo più la vecchia azienda con 1.500 dipendenti, ma piccoli investimenti che potrebbero in un prossimo futuro individuare il sito di bus come una piccola Silicon Valley della chimica. L'altro problema che mi ha spinto è la bonifica dei sito inquinati, che ha un risvolto di tipo ambientale, di tipo sanitario, ma anche un risvolto di tipo economico. Avere la possibilità di possedere dei terreni liberati dagli inquinamenti ci permettono anche di poter offrire alle aziende che si presentano sul territorio di avere spazi a disposizione, già infrastrutturati e con tutte le utilities possibili e immaginabili. Io proprio questa mattina prima di ricevervi ho ricevuto la visita di un'azienda che a novembre aveva fatto domanda per insedarsi sul territorio e stamattina ci hanno venuto a dare la buona notizia, ci ha portato la documentazione che i suoi progetti sono stati, i suoi progetti sono stati approvati e già finanziati e sono piccoli progetti, due progettini di 10 posti l'uno però, per cui siamo a già 20 posti nuovi di lavoro. Ecco noi dobbiamo lavorare in questo modo. Mi sembra di capire che un'eventuale lagattabis sarà oriente in questa continuità di consigliatura. Vuole continuare a portare avanti un discorso, un lavoro che è già iniziato? Assolutamente sì, dobbiamo finire la bonifica, noi non abbiamo un sito inquinato, noi abbiamo quattro siti inquinati, in uno già la bonifica è iniziata ormai da due anni, poi abbiamo il sito più inquinato che si chiama 2A e 2B che sta per partire, nel senso che è stato validato il progetto, siamo nella fase operativa, io ho incontrato il responsabile unico del procedimento, il RUP, proprio l'altro ieri. Poi ci sono delle zone limitrofe rispetto alla 2B dove le attività di bonifica sono iniziate da 8-9 mesi, il che significa che quel quadro drammatico, desolante che si leggeva sui giornali, di cui molte televisioni sono occupate, letteralmente è cambiato. Non è stata una cosa facile, abbiamo dovuto lottare contro il mondo, abbiamo dovuto lottare anche contro il Ministro dell'Ambiente, penso che questa cosa è risaputa, tant'è che abbiamo vinto prima al Tar e poi al Consiglio di Stato ed è stata accettata la nostra linea, il nostro percorso per capirci e adesso si sta operando su quel concorso. Bussi è un paese dove si stanno facendo le bonifiche, riavere, lo dicevo prima, un territorio libero ci consente di rispondere alle aziende che si presentano sul territorio. Le aziende che si presentano sul territorio lo fanno perché hanno i terreni gratuiti, lo fanno perché sono infrastrutturati, lo fanno perché ci sono le utilities, ma soprattutto lo fanno perché essendo un paese dove la mentalità industriale ce la portiamo nel nostro DNA, i ragazzi di bussi, i bambini di bussi già nascono con l'idea della fabbrica e via dicendo ed è un'ulteriore attrattiva per le aziende che vengono, questo è quello che notiamo. Senta, ovviamente lei come candidato sindaco, la vostra lista, avete presentato un programma, quali sono gli aspetti oltre a quelli che ricordava che lei ritengono qualificanti di questa proposta amministrativa? A me non piace dire che abbiamo presentato un programma, io ho detto in un'occasione di un comizio, abbiamo presentato un testamento, poi qualcuno mi ha detto guarda che porta male, allora noi abbiamo questo che le faccio vedere che è una sorta di vademecum, una sorta di agendina che mettiamo a disposizione di tutti i cittadini, non è il libro dei sogni, non c'è in questo programma scritto vorremmo fare, noi abbiamo detto questo è quello che abbiamo fatto negli ultimi 10 anni, non ci sarebbe neanche bisogno di presentarlo, aprite la finestra e vi affacciate e vedete le cose che sono state realizzate, io credo che siamo uno dei primi paesi in Italia ad aver utilizzato al meglio i fondi del PNRR, per cui abbiamo in questo momento 10 candieri aperti, ne dobbiamo aprire altre vendi ed è la seconda pagina del programma, c'è scritto lavori e progettazioni in corso di esecuzione, adesso è un sogno e poi abbiamo i progetti già finanziati, il progetto non il lavoro, da un lato progettazione e finanziamento ed esecuzione dei lavori, dall'altro progetti già finanziati e poi gli obiettivi, quelli più eclatanti che abbiamo raggiunto negli ultimi 10 mesi. Noi siamo consapevoli che Bussi non può essere il paese che era, il paese dove c'era la piena occupazione, un'azienda dove tutti lavoravano. Bussi ha subito una deindustrializzazione feroce, immaginare un futuro solo di industria è un sogno, noi sull'industria puntiamo ma stiamo puntando ultimamente molto sul turismo. Bussi è attraversato un fiume bellissimo, considerato uno dei fiumi più puliti d'Europa, è il più limpido d'Italia, che scorreva all'interno del paese e noi quasi non lo vedevamo, noi lo davamo come una cosa sodata. Negli ultimi tre anni abbiamo puntato molto sul fiume, abbiamo puntato molto sul turismo, oggi Bussi è il paese delle canoe, è il paese delle bike, è il paese delle camminate a cavallo, è un paese di turisti, abbiamo realizzato due aree camber attrezzate che già sono frequentate da centinaia di turisti, puntiamo molto su quello. Avevamo un problema grande, il problema dell'accoglienza, cioè oltre alle aree camber se viene un turista Bussi dove si mette? Adesso noi puntiamo molto sulla ricostruzione post terremoto, per cui immaginiamo che grandi zone del centro storico potranno avere la funzione di accogliere la gente attraverso questi piccoli band e break, però abbiamo fatto una cosa importantissima, gli ultimi mesi, dopo 300 anni il Comune di Bussi ha preso in gestione il castello di Bussi, che era un castello privato che molti bussesi, il 99% dei bussesi non aveva mai visitato, noi lo abbiamo preso in gestione, metteremo una parte del castello a reddito, attraverso attività commerciali, ristoranti eccetera, utilizzeremo una parte del castello per la cultura, per i convegni, le mostre e via dicendo, soltanto nell'ultimo mese abbiamo fatto ben sei concerti all'interno del castello, viene gente da tutte le parti, in questo momento c'è per esempio una mostra fotografica, noi pensiamo che il castello insieme alle altre attività che abbiamo messo in piedi possa attrarre turisti, abbiamo fatto la piscina, abbiamo fatto due parchi nuovi con il campo di bocce, pista di bambini, cioè se mi metto a fare l'enco è lungo. Avete amministrato, Salvatore Lacatta siamo alle battute conclusioni, abbiamo ancora molto tempo, però innanzitutto vorrei sapere qualcosa circa la sua lista, chi ne fa parte, se una lista rinnovamento? La nostra è una lista cosiddetta civica, è civica da quando ho iniziato, io sono, è noto, sono uno che ha fatto sempre politica nella vita e l'ha fatta sempre in un determinato settore, cioè sono facilmente individuabile, non me lo fate dire, però mi sono reso conto dieci anni fa che avevo bisogno delle migliori risorse del paese e mi sono reso conto che potevo trovarle anche con persone ideologicamente molto lontane da me. Per bussi si può fare? Per bussi si può fare, nella mia presentazione non è venuto un politico, non perché non si sia fatta avanti, adesso con le regionali politici vanno trovando tutti, ma perché voglio mantenere questa identità. Ho anche vietato, ma non sono un dittatore, ai miei collaboratori dei passati 5 anni che sono tutti stati ricandidati di evitare per quanto possibile, così come lo faccio io, di farsi le tessere, è una cosa che verrebbe strumentalizzata, voglio mantenere questo obiettivo. Io durante la presentazione ho ricevuto, se c'è un secondo, mi hanno presentato una lettera, un signore di bussi, il quale ha detto, guarda noi siamo lontani ideologicamente, una parte una all'altra. Dieci anni fa ho osteggiato la tua lista, dopo 5 anni mi sono dovuto ricredere, 5 anni fa ho fatto la campagna elettorale per te, la rifarò anche quest'anno, perché non posso non prendere atto che sei uno dei migliori sindaci del dopoguerra ad oggi, io mi sono fatto un pianto, mi sono commosso, come si è commossa molta gente e a me è piaciuta molto quella lettera, vuol dire che ho raggiunto l'obiettivo, ne manca uno, quello di pacificare questo paese, questo paese che sta raggiungendo obiettivi prima impensabili sul piano economico, sul piano sociale, deve essere ancora pacificato, bisogna ritrovare… Senta, in 30 secondi mi dice perché confermare la fiducia alla gatta qui a Busse, qual è l'appello che si rivolge agli elettori? No, guardi, la gente mi conosce, sa che dedico tutto il mio tempo, le mie giornate su questa sedia, anche questa scrivania così bella ordinata testimonia il fatto che qui si lavora dalla mattina alla sera, lo fanno tutti i sindaci d'Italia, non sono un'eccezione, l'eccezione è chi in partenza sa che non potrà dedicare il suo tempo per il paese, lo sa in partenza e lì io mi metto paura, perché se blocchiamo questo percorso di ricostruzione del paese sotto l'aspetto economico e sociale non andremo non dagli. Grazie Salvatore Lagatta, lo ricordiamo candidato sindaco, ricandidato sindaco, con la lista lavoriamo con l'AT sempre per Bussi, grosso in bocca al lupo. Grazie. Carmine Di Carlo o Salvatore Lagatta? Staremo a vedere chi premierà l'elettorato di Bussi i prossimi 14 e 15 maggio. Intanto vi ricordo le modalità di voto, si vota appunto nella giornata di domenica 14 maggio dalle 7 alle 23 e nella giornata di lunedì dalle 7 alle 15. Lo spoglio inizia subito dopo, il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze sarà il primo cittadino di Bussi. Non mi resta che augurarvi buon voto. Grazie. 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 Grazie.